Noamighetti, il grande Gramsci ha una vita costellata di tantissime donne, negli studi che lei da tanti anni sta facendo su di lui e anche in questi periodi un po' complicati, ha fatto ricerche complesse all'interno dei suoi scritti, si vede che tantissime destinatarie del libro sono proprio le donne. Sì, è una conclusione a cui uno arriva dopo aver lungamente affrontato anche parti più specialistiche, la nota dantesca dei quaderni, una cartolina da mosca che non era stata mai interpretata alla luce di nuove scoperte. E' una conclusione a cui sono arrivata quando il mio editore mi ha detto il 90% delle lettere di Gramsci sono dedicate e rivolte a donne. Stavo dicendo proprio perché la difficoltà era identificare personaggi politici di quell'epoca che non hanno un rapporto così fluido diciamo con le donne, non si rivolgono alle donne e soprattutto alle tematiche femminili. Sì, è stato un grande problema anche della rivoluzione russa, anche del marxismo, la questione femminile diciamo che poi Gramsci preferisce chiamare questione sessuale. Questione sessuale. Sottolineando la dimensione di rapporto più che direi, questo mi sembra interessante, ci ho riflettuto, piuttosto che quella di separatezza, questione sessuale di rapporto uomo donna. Se vogliamo la bestia nera perché esce anche dalle maglie, ha una sua dimensione che è originaria anche pre-politica per cui anche in Marx è affrontata nel giovane Marx dei manoscritti, del terzo manoscritto che è uscito molto tardi. Io mi domando e ci domandiamo se Gramsci ha fatto a tempo di leggerlo, perché nel 32 è stato pubblicato a Mosca l'edizione dei manoscritti economico-filosofici, però circolava un'edizione del terzo dal 28 e Gramsci conosceva il curatore di questa traduzione. E' probabile che lo abbia, nel periodo in cui era a Mosca l'abbia potuto vedere. Anche Marx non se ne è occupato, ha abbandonato la questione, l'umanesimo, diciamo, in favore di una dimensione più economicista, soprattutto nel rapporto con Engels. Ci sono all'interno del suo testo molti spunti per intuire quanto Gramsci fosse interessato a identificare la figura femminile non come madre, non come casalinga, quindi in questo senso andava un po' contro quello che era il soviettismo da una parte e dall'altra anche il fordismo, cioè per assurdo in una sola battuta andava contro due opposti. Andava contro due opposti perché nell'interpretazione economicista della storia umana che allora prevaleva sia nel nascente capitalismo, nel capitalismo, ma anche si è affermata anche nel marxismo-leninismo, la questione dell'efficienza lavorativa del lavoratore maschio era fondamentale. È il punto proprio in cui sono uguali. Io mi sono permessa di fare questo accostamento, lo so che è un po' osè questo accostamento, però l'appello anche di Lenin che gli operai hanno bisogno di salvare le energie per la rivoluzione, per lavorare, e quello di Ford che aveva allestito, Gramsci lo analizza nel quaderno 22 in una maniera impressionante il meccanismo, finiva col sacrificare completamente più di tutto e avere quasi come cardine, come garante della stabilità lavorativa, dell'efficienza, la casalinga. E quindi le donne che in un primo tempo della rivoluzione russa avevano avuto tantissime conquiste nel primo anno, anche Lenin le esalta, in realtà con la NEP, con la nuova politica economica, dal 21, vengono ricacciate nelle case perché è più economico che la donna faccia la casalinga. Ci sono, restando in Russia, tre figure femminili molto importanti per Gramsci, tre sorelle in particolare, e sono Tatiana, Eugenia e Giulia. Che rapporto c'era tra Gramsci e queste tre signore? Queste tre sorelle, erano delle sorelle anche per quell'epoca assolutamente moderne, figlie di un amico di Lenin, Apollon Schucht, che era un socialista populista, rivoluzionario. Avevano studiato tutte e tre a Roma, qui da noi. Giulia era diplomata all'Accademia di Santa Cecilia, Eugenia aveva conseguito anche lei un suo diploma alle belle arti, all'Accademia delle belle arti, e Tatiana, la terza, che era poi la più anziana di tutte, era laureata in biologia e studiava medicina, aveva fatto quasi tutti gli esami di medicina. Tutto questo accadeva in un periodo in cui Gramsci e le tre sorelle non si conoscevano affatto. Allo scoppio della rivoluzione, le sorelle, Eugenia e Giulia sono ritornate in Russia con la famiglia. Erano esuli, erano prima in Svizzera, poi appunto a Roma. La terza, Tatiana, è rimasta sempre a Roma, non ha seguito la famiglia. E qui ha incontrato Gramsci, tardivamente, diciamo, ha conosciuto Gramsci, dopo che Gramsci addirittura aveva avuto un figlio da Giulia. Gramsci le conosce, le due sorelle, le conosce a Mosca nel 1922, quando si reca per un congresso, assieme a Bordiga e assieme alla delegazione italiana, e ammalatosi, viene ricoverato in un luogo meraviglioso, dove io sono stata, sono stata a visitarlo, un'isola sulla Moscova, che era diventata il luogo di cura, di riposo, come usava allora, il riposo e la cura erano mescolati, per la nomenclatura sovietica. Quella sovietica, sì. E questo posto è un posto meraviglioso, c'è una foresta, la foresta d'argento, infatti, si chiama. E lì Gramsci, prima di tutto, incontra Clara Zetkin, soggiorna in una dacia, molto più anziana di lui, diciamo, però porta in segna della lotta per l'emancipazione femminile, Clara Zetkin. Dopodiché viene ricoverato nel sanatorio, così si chiamava l'ospedale, dove conosce Eugenia. Non sappiamo quanto il tutto sia stato poi, qualche sospetto che il tutto, la ragazza parla in italiano perfettamente, avendo studiato. E quindi Gramsci sia stato anche, normalmente, avviato anche per questioni di ospitalità, a conoscere queste sorelle. Il fatto sta che queste tre sorelle, ad una ad una, quando incontrano Gramsci, vengono arruolate dai servizi segreti sovietici, tutte e tre. Per lo meno la terza, arruolata, non si può dire, ma certamente avvicinata, si devono sempre... La prima delle tre sorelle è ricoverata lì da tre anni, è anoressica, ha una specie di paralisi isterica, non cammina, non cammina più. Gramsci entra in rapporto prima di tutto con lei, lei tenta in tutti i modi di sedurla, anche in maniera molto aggressiva, di sedurlo. Lui si sente al centro di attenzioni, a cui non è neanche abituato, così alte, femminili, anche se aveva già avuto una storia d'amore a Torino, molto importante, con Pia Carena. Dopodiché arriva a trovare la sorella ricoverata, arriva la bellissima Giulia Schucht, la violinista. E lo affasce. E lì c'è il fasce, lì c'è la storia d'amore, sì. Diciamo che il pensiero di Gramsci va oltre la ricerca di una parità giuridica. Qual è il passo in più che Gramsci vuole identificare? Questo è un passo fondamentale, perché la parità giuridica o anche, se vogliamo, l'indipendenza economica riguardano solo l'aspetto cosciente. E in qualche modo erano anche le rivendicazioni delle femministe borghesi. La cosa più profonda, la realtà più profonda non era stata mai considerata. Gramsci usa delle parole anche nella bellissima recensione allo spettacolo teatrale Casa di Bambola, di Ibsen, in cui parla proprio del diritto delle donne ad avere, come dire, le proprie esigenze, a realizzare le proprie esigenze. Le proprie, addirittura usa la parola aspirazioni, esigenze, aspirazioni, anche a prescindere dalla dimensione familiare, anzi liberandosi dove è necessario della dimensione familiare dove è costrittiva e le condanna a una sottomissione che è la stessa, e questa è la cosa che le donne russe, le grandi rivoluzionarie hanno molto chiara, ma anche Gramsci ha molto chiara, è la stessa anche tra i proletari nella classe, cioè doppiamente sottoposte le donne tra i proletari. Gramsci lo dice, non utilizzano mai i proletari il sistema che usano per pensare alla loro subalternità rispetto alle classi dominanti, quando sono in casa, in famiglia e costringono le mogli a lavare i piatti. Diciamo che nel pensiero di Gramsci che le racchiude all'interno di questo suo volume c'è molta attualità, nel senso che sembra quasi più avanti una cosa dei tanti decenni fa e poi sembra che ci sia stato un percorso rallentato, se non indietreggiare rispetto a quanto lui aveva già previsto. Queste parole sono vivissime, stiamo vedendo tutti i giorni quanto anche con la crisi, la crisi economica, ma anche la crisi culturale gravissima che c'è in corso, la situazione delle donne diciamo stia arretrando, quindi le parole di Gramsci direi che forse il senso di questo libro mio, di questa mia ricerca è stato questo, diciamo scoprire in questo campo una dimensione di Gramsci veramente direi unica tra quelle, io sono una studiosa di storia però Gramsci da questo punto di vista e non si può dire che sia un femminista, quando c'è da fare lo scontro lo fa, lo fa e curiosamente lo fa soprattutto quando le donne si mostrano nei suoi confronti accudenti come era normale che fosse data la sua situazione fisica e rinunciano, le spinge, le sprona sempre e costantemente tutte le compagnie di lotta e anche le sue compagnie di vita a sviluppare una dimensione di identità personale, cioè sempre con la convinzione che senza una realizzazione femminile l'uomo nuovo non ci sarà mai, l'uomo nuovo che cercano i socialisti e i comunisti. Il suo testo termina con delle parole alte perché c'è una poesia molto bella di un poeta turco che vorrei cercare di leggere con lei, sono cent'anni che non ho visto il suo viso, che ho passato il suo braccio attorno alla sua vita, che non mi sono fermato nei suoi occhi, che non ho interrogato la chiarità del suo pensiero, che non ho toccato il calore del suo ventre, eravamo sullo stesso ramo insieme, eravamo sullo stesso ramo, caduti dallo stesso ramo ci siamo separati e tra noi il tempo è di cent'anni, di cent'anni la strada e da cent'anni nella penombra corro dietro a te. Grazie Noe Viglietti. Molte grazie. Grazie a tutti.